L'idea era nata alcuni mesi fa in un contesto oggettivamente diverso da quello di oggi, comunque il concetto rimane valido, anzi probabilmente ha avuto un'amplificazione legata un po' alla situazione economica generale. L'obiettivo di fondo era quello di creare un collegamento più diretto tra quella che era l'impresa e il territorio, quindi tutti gli stakeholder che sono in qualche modo interessati allo sviluppo e alla crescita dell'impresa, quindi dalla scuola alla formazione, ai cittadini, alle istituzioni, quindi cercando di avvicinare il mondo dell'impresa a quelle che erano, come si dice, in quel momento le necessità dell'impresa per poter competere sui mercati internazionali. Quindi l'idea e il tramite di questo collegamento, di questo dibattito, questa forma di interpretazione di un rapporto era nato attraverso un concorso, un modo per dibattere sul tema, quindi territorio e imprese, che tipo di rapporto vogliamo avere nel futuro e quali sono le sinergie che uno può portare verso l'altro. Il concorso poi aveva anche, come si dice, una finalità secondaria, che era quella di generare un payoff, una frase, un'indicazione, che in qualche modo rappresentasse questo collegamento e che diventasse effettivamente non solo uno schema grafico, una frase vuota, ma un meccanismo proprio di dialogo continuo. Diciamo che il concorso si rivolge proprio al territorio, in due aree, diciamo tendenzialmente ai professionisti del marketing del territorio, con l'obiettivo che propongano in una semplice frase, in un segno grafico, quello che è proprio questo concetto di rapporto tra imprese e territorio, imprese in senso lato, quindi non solo l'impresa industriale, ma l'impresa artigiana e l'impresa commerciale. L'altro, il principale obiettivo, anche perché poi la parte di premi viene indirizzata proprio verso questo obiettivo qua, è il mondo della scuola, secondaria e superiore. attraverso la presentazione di un elaborato su questo tema, cioè come vedono il rapporto tra territorio e imprese agli studenti e cosa ritengono che le imprese e loro possano portare a contributo nello sviluppo del territorio e quindi delle imprese. I premi non vanno concettualmente al vincitore, nel senso che il vincitore che è un professionista della comunicazione avrà l'onore di scegliere la scuola alla quale verrà consegnato un premio in buoni formativi da utilizzare da parte di cinque studenti per fare delle attività formative sia in istituti italiani che esteri. Quindi il vincitore avrà, come dicevo prima, la possibilità di scegliere l'istituto scolastico al quale consegnare questo premio. La categoria studenti invece avrà, lo studente che vincerà o il gruppo di studenti che vinceranno, avranno anche qua un buono formativo da utilizzare anche qua a livello nazionale e internazionale dove ritiene opportuno e la scuola avrà un contributo di pari entità. Quindi tutti i premi vanno a finire nel territorio, non sono quindi un appannaggio esclusivo del vincitore, anzi nel caso specifico del vincitore professionista, povero, avrà solo l'onore di aver partecipato e vinto il concorso. È uno strumento, come si dice, di dibattito e soprattutto di valutazione di questo tema. Noi avevamo, come si dice, il concorso ha l'obiettivo di interpretare in modo diverso e soprattutto di dare a questo rapporto delle valutazioni nuove diverse da quelle che sono state portate avanti nel passato, più immediate, più rapide anche perché appunto stiamo vivendo in un momento storico in cui la necessità di essere rapidi nel cogliere da una parte le problematiche e dall'altra le necessità impone di rivedere anche i collegamenti tra il territorio e le imprese. abbiamo portato, come si dice, come serata qualcuno che ha delle idee, per carità, condivisibili o non condivisibili proprio su questi temi qua, sicuramente visti da un modo di approccio inusuale e quindi, come si dice, nel contributo, nel cercare queste modalità nuove e soprattutto non solo nuove ma più efficaci, credo che appunto il professor Zecchi possa rappresentare, come si dice, quel pizzico in più rispetto a un normale dibattito. Grazie.